A sostegno di Nico Balice, candidato sindaco per il centrodestra, è tornato a Termoli l'onorevole Lorenzo Cesa, che ribadisce l'impegno dell'Udc con l'obiettivo di portare all'interno della coalizione moderazione, buonsenso, responsabilità e competenze, seduti vicino a lui anche rappresentanti e candidati, espressione del partito. Dato dare continuità all'amministrazione della sindaco Roberti, oggi Presidente della Regione, e sostenere Balice, che ha lavorato già insieme a Roberti, facendo molte cose per vero innovative per questa città. Poi, insomma, avere il sindaco di centrodestra, il Presidente della Regione di centrodestra, il governo centrale di centrodestra, penso che sia una grande opportunità per il Molise e per Termoli lì solo. Ha parlato di turismo, sociale, infrastruttura, agricoltura, start-up e soprattutto sanità, tema centrale per il Molise. Arriva all'estate, cresce il numero di turisti, così come aumenta prevedibilmente anche quello dell'utenza del San Timotio. Al di là del decreto Molise si stanno facendo molte cose positivi, intanto abbiamo fatto in modo che ci fossero maggiori risorse per la Regione Molise, in generale, 20 milioni più l'anno, praticamente chi valga un po' il decreto, perché se avessimo fatto un decreto, questo avremmo ottenuto 20, 25, 30 milioni. Insomma, stiamo lavorando per portare, per fare fatti concreti, che gli valgono a fare un provvedimento, un modello decreto. Io personalmente punto ancora sul decreto e ci sto lavorando, ci insisto.